Andiamo a approfondire quello che è il nurturing, che questa parola sembrerebbe una parolaccia ma non lo è. Il nurturing, come dicevo, è dall'inglese nutrire, foraggiare, gestire e mantenere i contatti che sono arrivati in pancia all'azienda e mantenerli nel tempo. Il nurturing appunto vuol dire nutrire, nutrire possiamo farlo con delle informazioni, facciamo esempio, ho mandato un'email per richiedere delle informazioni per quel determinato prodotto, mi vengono date quelle informazioni, io cliente sparisco, non noto più uno, nessuno mi chiama più, mi hanno chiamato una volta, hanno dato le informazioni e poi non l'ho più sentito. Il nurturing implica e impone che questo cliente venga considerato e accompagnato al letto dello spam, non bisogna spammare, quindi non bisogna inevitabilmente andare a disturbare o diventare appunto un disturbo telefonico scritto al cliente, perché lo sappiamo benissimo tutti, già negli orari più assurdi ci chiamano le compagnie telefoniche, piuttosto che quelle del gas, della luce, eccetera, che ci danno solo fastidio. Ecco, commercialmente non dobbiamo fare quella fine lì. Per non farla bisogna avere un processo e una struttura ben concreta che si sa quando, come e perché. Detto questo, il nurturing manterrà il contatto vivo dal potenziale cliente nei confronti dell'azienda fino a quando non lo convertirà in un contratto e può essere anche a distanza di anni. Considerate che i CRM evoluti fanno questo in maniera automatizzata e non implicano nei costi, nei spese, nei gestioni da parte di nessuno. C'è il CRM che lo fa, basta settarlo nel modo corretto. Manterrà l'attenzione viva mandando una mail, faccio esempio che abbiamo richiesto delle informazioni per quel prodotto, io sono sparito, una mail il 20 giorni dopo che dice, ma lo sai che quel prodotto fa anche quello? Lo sai che quel prodotto questo mese, il mese che sei arrivato tu no, ma questo mese ha uno sconto particolare. Se compri quel prodotto avrai un anno di garanzia in più. Ma lo sai che quel prodotto è raccontando la storia di quel prodotto per ravvicinare la persona a quel determinato prodotto. Questo è il nurturing. Il nurturing funziona anche dopo che è stato comprato un prodotto. È stato comprato un prodotto e quindi io comunque ti voglio mantenere vicino all'azienda. E come voglio mantenerti vicino? Ricordandoti che magari dovrai fare il tagliando. E quindi dandoti il servizio di reminder, gentile cliente, la sto chiamando solo per ricordarle che il mese prossimo scade il periodo per il quale deve fare il tagliando. È un servizio. Poi se lui non lo vuole fare, è un problema suo se decade la garanzia. Ma è un servizio che sto dando e sto mantenendo i contatti. Se il processo del nurturing viene messo insieme a tutti gli altri processi dell'azienda, ma in maniera concreta, in maniera che si sappia quando, come e perché venga fatto, allora il nurturing è la prima fonte di contatto gratuita. Perché non dovrete mettere soldi per generare nuovi contatti. Li avete già. Considerate che la media delle aziende italiane, che esiste da più di 10 anni, ha il 50% dei contatti inutilizzati. Ne ha qualche migliaio buttato lì che non considera. Invece ne va ogni mese a spendere dei gran soldi per generarne di nuovi, quando basta guardare dietro l'angolo, guardare con gli occhi attenti e studiare una strategia. Questo lo posso insegnare sicuramente nei corsi di nurturing che tengo o venendo direttamente presso le vostre attività. Però di fatto non è assolutamente da sottovalutare perché solo la persona che gestirà bene il nurturing avrà più vita facile domani. Grazie a tutti.